di padre italiano e madre irlandese. Negli anni del dopoguerra si trasferisce a Londra dove inizia la sua carriera di fotomodella e, attrice, approda al cinema italiano negli anni 60, interpretando alcuni film di fantascienza con il nome di Jane Fate. Successivamente, dopo un breve matrimonio con un noto professore di fisica, Constantine Manos, si lega al produttore Joseph Fried, con cui nel 1966 gira da protagonista Svegliati e uccidi di Carlo Lizzani, nel quale si fa notare nel ruolo di Candida, compagna del solista del Mitra, Luciano Lutring, interpretato da Robert Hoffman. La pellicola ottiene un notevole successo e l'interpretazione di Lisa Gastoni viene premiata con «Il nastro d'argento», il film maggiormente legato all'immagine di Lisa Gastoni e però indiscutibilmente il cult movie «Grazie a zia», 1968, di Salvatore Samperi, nel quale è una conturbante e raffinata zia, attirata in un morboso rapporto psico-incestuoso dal nipote finto paralitico. Interpretato dal giovane Luca Stell, reduce dal successo di «I pugni in tasca» di Marco Bellocchio. La sua interpretazione sarà premiata con la targa d'oro ai premi David Di Donatello. Nel 1973 interpreta il film erotico «La seduzione». Comunque negli anni 70 gira pochi film, in virtù di una sua scelta di lavorare solo con registi di qualità. Nel 1974 interpreta il ruolo di Claretta Petacci in Mussolini «Ultimo atto» di Carlo Lizzani e nel 1975 vince il secondo «Nastro d'argento» con «Amore amaro» di Florestano Vancini. Dopo aver debutato in teatro nel 1979 con «La celestina» di Fernando de Roas, sotto la regia di Luigi Squarzina, si è ritirata dalla scena, dedicandosi alla pittura e alla scrittura. Vi è ritornata a metà anni 2000 con alcune eccellenti interpretazioni per il cinema e la televisione, ottenendo con cuore sacro, 2005, di Ferzanopetec, una candidatura al David Di Donatello e al Nastro d'argento.